ciao ragazzi e bentornate sul mio canale nuova attenzione di spesa al todis allora abbiamo preso l'asiano che il mio formaggio preferito i suprì i cornflakes classici che devo fare anche una ricetta oltre a a mangiarli per colazione salmone fragole banane due provole poi ho preso il carbonato bianco per la lavatrice e poi ho trovato questa linea al pro shop della adorno un sacco di prodottini che voglio prendere anche la lacca poi la vedrete più in avanti magari in un video acquisti e quindi ho preso lo shampoo poi ho preso il termo protettore poi ho preso la maschera che non vedo l'ora di provarli sapete la mia mania per i prodotti per capelli quindi questi si aggiungono a tanti prodotti che sto provando alla prossima spezzoni di spesa allora ho preso un barattolo per la massa poi vediamo un attimo come utilizzarlo mascherine rotoloni nuovo e poi dei calzini della carro e poi un giravite sempre sono un'altra nuova spezzoni di spesa abbiamo preso il prosciutto crudo poi lo spezzoni di spesa e il cotto poi gli spaghetti ce ne hanno regalati abbiamo preso la provola le zucchine mele mandarini banale bene 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 pomodori per le insalate i panini per il dog i bucatini insalatona questa la devo mangiare stasera ragazzi qui si inizia dalla dieta poi due confezioni di panna il pasticciotto amarena che questo lo mangio mio marito una zuppa con legume cereali un po di farina uova snack e salmone e poi due pacchi di pasta al graniano e casa ricce e i datoni alla prossima spezzone di detersivo allora abbiamo preso il riso for per la lavatrice il sole ormai lo prendiamo sempre sempre per la lavatrice il finish le pastiglie poi abbiamo preso una coca cola una coca cola birra olio per friggere per tutto colpo poi ho preso un ruoto tondo e uno per focaccia alla prossima pospezione di spesa allora abbiamo preso il bacon i bastoncini un po' di filadelfia passato di verdure hamburger melanzana rucola insalata una coca delle schiacciettine basilico 2 succhi senza zuccheri uno è al brasil l'altro all'arancia poi a birra e degli yogurt senza pezzettoni a zero grassi fragola pistacchio e caffè alla prossima piccola spezzone di spesa allora abbiamo preso l'olio extravergine yogurt alla fragola zero grassi mascherine e guanti latte la confezione doppia di scolex e un ammorbidente alla profezione di spesa allora abbiamo preso gli hamburger poi il cioccolato fondente con scaglie di cioccolati arancia quest'altro tipo extra fondente una melanzana un salame ungerese salsicce quelle tacchino al pollo poi i pomodorini poi come basta le linguine sono graniano piccola olio due passate poi abbiamo preso le bere le mele due provole una e due e poi un pacco di farina e banane spezzone di spesa allora abbiamo preso la pellicola del deco due confezioni di plum cake yogurt alla greca poi come succo preso questo all'arancia senza zuccheri gli ho preso uno della sant'alla all'arancia poi del cotto questo all'arancia e parola parmigiano salata bondwell due passate a frutta poi delle mele parmigiano fragole latte intero e due latte della deco alla spezzone di spesa allora preso un po di panini asiago delle fragole marmellata alle fragole peperoni quelli brigliati interi una bottiglia di vino bianco tè classico degli hamburger pollo delle pepsi poi come roba per freezer pesce bastoncino poi il salmone e poi le scarole altra spezzone stavolta per quanto riguarda la frutta allora le mele annunce e quelle grandi poi abbiamo preso i kiwi i finocchi limoni banane pomodorini e un po di olori alla prossima abbiamo preso lo scottex wow i sacchetti per la spazzatura e i tovaglioli caress una spezzone di spesa allora abbiamo preso i panini per fare con l'hamburger poi una vellutata ai carciofi e patate poi una confezione doppia di teneroni il bacon poi abbiamo preso il petto di tacchino e due confezioni di salmone affumicato una confezione di tè verde latte una coca grande insalata mista rucola e poi la marmellata alla fragola alla prossima insalata